Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in via Fratelli Rosselli, nei pressi della parrocchia Santa Rita. Torniamo sul luogo del delitto. In questa zona, infatti, già eravamo stati circa due mesi e mezzo fa per rappresentarvi lo stato di abbandono della stessa. L'amministrazione comunale, attraverso l'AMIU, prima ancora del primo maggio, intervenne per tagliare, per potare un po' gli alberi, per strappare, per eliminare l'erbaccia e quant'altro, per dare un minimo di decoro alla piazzetta. Bene, questi rifiuti, questo materiale potato, venne accantonato e da quel dì è rimasto qui abbandonato da mesi e mesi, per mesi e mesi. Quindi nulla è cambiato. Ora mi domando, e chiedo al sindaco, scusi signor sindaco, ma la stessa cosa dicasi alla dirigenza dell'AMIU, ma quando voi potate gli alberi, quando voi effettuate degli interventi sugli alberi, quello che avete potato, i rifiuti per capirci, li lasciate così, li lasciate abbandonati e ve ne andate, questo avete fatto. È una vergogna. Questa è mancanza non solo di professionalità, ma proprio di igiene pubblica. Qui noi abbiamo un cumulo di materiale, ripeto, di derivante dall'opera di potatura che rimane lì abbandonato. Se poi si considera che a questo materiale si sono aggiunti altri rifiuti di varia provenienza e la frittata è bella e pronta, è bella e fatta. Questo significa, signor sindaco, non sapere amministrare la città. Quando voi non riuscite neanche ad eliminare, a portare via quei rifiuti che voi stessi avete prodotto, beh, vuol dire che dovete cambiare mestiere. Signor sindaco, non è per lì amministrare la città di Taranto. Se ne va da quanto prima.